Eccoci qua con Simone Sapioni e tu c'è anche lui dal tour del course dell'ultimo mese come tutti quelli che abbiamo intervistato. Due parole sulla tua condizione e sul conseguo della stagione. La mia condizione fisica, come tutti sappiamo, non è al top. Adesso ci stiamo lavorando molto comunque e spero di tornare al top a più presto. Il problema ancora è da definire però non la testiamo troppo e andiamo avanti con serenità. Io sto bene, adesso il meeting è stato molto bello, oggi è stato stimolante, ci siamo divertiti molto, le qualifiche finali ci siamo divertiti e adesso ci vediamo agli assoluti a dicembre e spero di dare il meglio lì e spero di tornare al top. Bene, noi te le auguriamo, ti lasciamo alle premiazioni e ai ragazzi soprattutto di questo fantastico meeting. Grazie a tutti, ciao. Ciao Simone.